Sì, seguiamo di nuovo squat, però adesso in questo modo lo stiamo per fare in approcciato, lui scenderà proprio di sotto nella linea del parallelo, toccherà il bilanciale del bagno e queste gomme qua del giardinaggio che avvolgono le barri d'acciaio, toccherà e ripartirà. Ok, allora sistemazione, aggiustaggio, costura, bene l'impugnatura, fuggi bene, allora plan, plan cattivo, sistema bene il ciclo scappo moderale, plan massima potenza, contrae bene la muscolatura del corpo, giù, adesso bravo Giuseppe, adesso riprendilo frontalmente, prima adesso vieni pure lateralmente, bravo Giuseppe, me ne fai un'altra, vieni di lato, facci vedere come tocchi di lato, Tocca, bravo Giuseppe, ottimo, stop